Alle vie e i saldi invernali nelle Marche sconti fino al primo di marzo Traffico di stupefacenti arrestati due giovani pesaresi Comunicazioni in ritardo alla questura denunciati tre hotel del territorio Pesaro città che cambia, tante le opere che vedranno la luce in questi primi mesi dell'anno Vecchio Palace, il centro-destra vuole vederci chiaro sui costi complessivi dell'opera Una buona serata telespettatori di Rossini TV Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi, venerdì 5 gennaio, che apriamo parlando dei saldi Sono infatti iniziati questa mattina i tanto attesi sconti invernali Che nella nostra regione Marche dureranno fino alle primo di marzo Il nostro Paolo Pagnini questa mattina è stato insider tra le vie del centro di Pesaro Per sentire pareri e aspettative dei negozianti Vediamo servizio Amici e amici di Rossini TV, siamo in piazza del popolo, nel cuore della città Siamo sotto l'albero di Natale, davanti al presepe, ancora c'è atmosfera natalizia Questa è la grande querelle del momento sul discorso dei saldi Siamo ancora in atmosfera natalizia, la stagione sembra addirittura dal punto di vista atmosferico Non essere nemmeno iniziata, ma oggi 5 gennaio iniziano i saldi Noi siamo qua per andare a raccogliere qualche commento, qualche parere, qualche voce Venite con noi Abbiamo notato che è stato caldo finora Quindi abbiamo tanti prodotti belli, prodotti di qualità Quindi penso che adesso con i saldi si venderanno tutti molto più in fretta Di quello che si pensava, anche perché è arrivato il freddo Abbiamo tutta la collezione a 30% e invitiamo a tutti di venire a conoscere i prodotti Siamo aperti tutti i giorni Ancora non possiamo parlare delle vendite, però della strategia aziendale d'attacco sì Ma guarda, il periodo storico è quello che è, lo conosciamo Però c'è entusiasmo, c'è voglia di fare, di comprare, c'è energia Noi facciamo di tutto affinché i clienti possano sentirsi a proprio agio Applicando anche degli sconti ulteriormente scontati dai prezzi che già vendiamo Dove già applichiamo uno sconto importante Quindi in modo tale facciamo così che ci sia la possibilità Che tutti possano approfittare di prezzi convenienti Un'ampia scelta e un'assistenza Che possano quindi acquistare quello che preferiscono Abbiamo già un prezzo scontato di cartellino Andiamo dal 30% fino al 50% su tutto Abbiamo iniziato appunto questa mattina, quindi ancora è da vedere La strategia, comunque sono tutti prodotti nuovi della stagione Che vanno in saldo al 30% al 50% Quindi non abbiamo le cose delle stagioni passate Ma abbiamo esclusivamente prodotti nuovi, capi nuovi Ci siamo organizzati, stiamo preparando prezzi Abbiamo preparato gli stand con vari percentuali di sconto Adesso siamo qua, oggi iniziano i saldi Quindi ci aspetta un bel periodo Che aspettative avete e soprattutto è tutto in saldo Oppure c'è qualcosa che non è in saldo Sul quale però c'è qualche idea? Allora qualcosa non è in saldo Tipo i continuativi che abbiamo sempre Come le t-shirt bianche e nere classiche E anche le 991 Però abbiamo delle promozioni che chi acquista i saldi Ha un buono sconto del 15% Quello lì vale proprio su tutta la merce Anzi anche sulla nuova collezione che ci arriverà a breve Su questa stagione che non si capisce Se deve ancora iniziare Qual è il tuo parere? Ma io penso che adesso arriva il freddo Adesso arrivano anche i clienti Con i prezzi buoni Quindi partiamo dal 30% E dopo fino alle scorte E dai saldi cambiamo argomento E passiamo ora alla cronaca I carabinieri di Pesaro Alle termine di articolate indagini Coordinate dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Pesaro Hanno arrestato due giovani pesaresi L'attività investigativa Che ha riguardato in particolare il capoluogo pesarese Ha consentito di verificare l'esistenza Di un gruppo di giovani Dediti al traffico di stupefacenti In particolare Ascis Con acquirenti per lo più minorenni Alle centri dell'indazio In uno degli arrestati Intorno al quale gravitavano Gli altri indagati Il quale nonostante appena maggiorenne Annovra un considerevole curriculum E collegamenti con il mondo criminale adulto L'attività investigativa ha permesso Di ricostruire ferate aggressioni Connesse con l'approvvigionamento Lo smercio di stupefacenti Che sarebbero state posti In essere dagli indagati E soprattutto ad uno degli arrestati Leader del gruppo di spaccio E già noto per la sua appartenenza Le gruppo minorile di Piazza Redi Sono state documentate numerose estorsioni Tentate o portate a termine Nei confronti di acquirenti Quali nel caso di ritardo Nei pagamenti dello stupefacente Le cui cifre potevano arrivare Anche diversi migliaia di euro Vedevano rincarare il proprio debito Gli acquirenti E tra volte i genitori Degli acquirenti minori Consapevoli dell'indole violente Degli indagati Hanno preferito cedere alle richieste E corrispondere il denaro Per fortuna però Alcune vittime hanno deciso Di denunciare le aggressioni subite Proprio a causa delle considerevoli Lesioni riportate A seguito delle aggressioni Già nelle corse delle indagini Partite nello scorso giugno Proprio in seguito all'aggressione Di un giovane per debiti di droga Le attività dei carabinieri Hanno portato a due denunce Ad un accompagnamento in eflagranza Di reato di minorenne E al sequestro di oltre mezzo chilo di ascis Durante poi le perquisizioni Sono state rinvenute Anche ulteriori 30 grammi di ascis I due giovani Sottoposti a misura cautelare Della custodia di in carcere Come da provvedimento Dell'autorità giudiziaria Sono stati portati Presso il carcere di Pesaro E continuiamo ancora Parlando di cronaca Perché il personale Della questura di Pesaro Urbino è stato impegnato Nel corso delle ultime settimane In diverse attività di controlli Alle strutture ricettive Della provincia di Pesaro E Urbino All'esito dei controlli È stata accertata la violazione Da parte di tre titolari di hotel Della normativa di settore Rispetto all'obbligo di registrazione Delle persone che usufruiscono Delle strutture ricettive Con trasmissione di tali informazioni All'autorità di pubblica sicurezza Entro precisi termini Le vicende in questione Hanno riguardato tutte Il caso di soggiorno Inferiore alle 24 ore Ove i titolari Delle strutture Devono comunicare Le generalità degli ospiti Tramite il portale Alloggiati web Entro le sei ore successive All'ora arrivo Tuttavia i titolari Degli hotel Sottoposti a controllo Due nella città di Pesaro E uno a Mondolfo Avevano comunicato Le generalità dell'ospiti In un momento successivo Alla ripartenza Dello stesso Omettendo quindi Di comunicarlo Entro le sei ore successive Ciò determinava la violazione Della norma E di conseguenza La denuncia All'autorità giudiziaria E ora cambiamo argomento Perché in questi primi mesi Delle 2024 Saranno tante le opere Che vedranno La loro realizzazione Tra gennaio E l'inizio della primavera Pesaro Città che cambia Prenderà sempre più forma Come sottolineato Dall'assessore del comune di Pesaro Riccardo Pozzi Siamo entrati Nelle 2024 Tante le opere In questo momento Che sono in fase Di costruzione Per quanto riguarda La città di Pesaro Tante anche però Le opere Che in questi primi mesi Vedranno la luce Sì Il 2024 È l'anno Della capitale italiana Della cultura Ed è anche L'anno Che segna La continuità Rispetto a una trasformazione E una città Che continua a cambiare Investimenti Che vedranno Già nel mese di gennaio Di febbraio Alcune Inaugurazioni importanti Quelle legate Alla CTE È la città Delle tecnologie emergenti Che vedrà realizzare Questa sua sede Nel Largo Mamiani Quindi un luogo Dedicato all'innovazione Alle start up Anche alla possibilità Di far dialogare In realtà pubbliche E private Con la logica Dell'innovazione Avremo in Piazza del Popolo Questa grande sfera Tecnologica Che richiama Sarà un po' Il simbolo Anche dell'anno Della capitale Italiana La cultura I primi due mesi Dell'anno Saranno dedicati Alla conclusione Degli interventi Sul palazzetto Dello sport E avremo Anche sugli impianti Sportivi Andremo a concludere L'intervento Di riqualificazione Del campo da calcio Di Villa San Martino Partiranno Altri cantieri Importanti Quelli Di regenerazione urbana Degli edifici Del centro storico In particolare Partirà Il palazzo San Domenico Che è il palazzo Per intenderci Che sta dietro Il palazzo delle poste Su via Giordano Bruno Poi abbiamo L'intervento Di 5 milioni e mezzo Di riqualificazione Della scuola Manzoni Quindi anche Le scuole Assolutamente Prioritarie Nell'asset Degli interventi Che andremo A realizzare Anche nel 2024 E nelle nuovità future E poi abbiamo Come dicevo Altri interventi Invece che si concluderanno Tra nel mese Di in particolare Marzo e Aprile Importanti Uno è il cavalcaferrovie Il cavalcaferrovie È un intervento Con cui andremo Diciamo a mettere In sicurezza Abbiamo messo in sicurezza Queste barriere laterali Andremo a riprendere i giunti Un intervento Che con un'illuminazione nuova E un E verranca asfaltato Quindi un intervento Che ci consentirà Di riportare Le quattro corsie Sul cavalcaferrovie Non solo il cavalcaferrovie Entro la primavera Andremo a concludere Il sottopasso Dei cappuccini Che Anche questo È assolutamente Un'infrastruttura Molto importante Perché ci consente Di riqualificare Una delle aree Forse La più degradata Che avevamo in città Andremo a potenziare Illuminazione Prevedere L'installazione Anche di videocamere Di sorveglianza Andare a realizzare Diciamo Una vera e propria Rigenerazione Di quel punto Importante Della città Sempre entro la primavera Andremo a concludere Altre interventi Importanti Come Il ponte ciclopedonale Che collega Il quartiere a nord Della città Con il centro storico La stazione del treno Un ponte Completamente In acciaio Che è attualmente In fase Di posa in opera Quindi C'è attualmente Il varo Cosiddetto Del ponte Sul foglia Che appunto Andrà a collegare Il parco 25 aprile Con Con i quartieri A nord città Quindi con via Milano E la parte Di via Fossombrone Andando a raccordarsi Con le ciclabili Esistenti E a consentire In pochi minuti Di bicicletta Per Dai quartieri Di tombaccia Di poter raggiungere La stazione del treno La città La città di Pesaro La primavera Sarà anche la stagione Degli interventi Sugli impianti sportivi In particolare Andremo a concludere Il completamento Della cittadella Dello sport Di Villa Fastigi Quindi questo project Realizzato da Vis Mati Con il comune di Pesaro Per andare a recuperare Dei campi da calcio Dei campi da calcetto E impianti da paddle Insomma Un impianto sportivo A tutti gli effetti Con anche un piccolo bistro Che possa anche Far crescere I nuovi talenti Del calcio Pesarese Non solo calcio Entro il mese di aprile Aprile e maggio Andremo a concludere Anche un'importante Riqualificazione Dello stadio da baseball E poi anche Gli interventi Sulle palestre Il più importante È quello della scuola Media Brancati La palestra Della scuola Brancati Che è anche qua Realizzata con Di canoni Di grande attenzione Rispetto al tema ambientale Quindi una scuola Da punto di vista Di efficientamento energetico E della sicurezza Al top E che sarà anche qua Un elemento Omologata coni Un elemento Di valore aggiunto Sia per la scuola Che per gli impianti E ora spazio Dedicato alle segnalazioni Che voi cittadini Ci inviate costantemente Che vi ricordiamo Di inviarci Alle numero Che vedete qua In sovrimpressione 370-366-7210 Questo mattino Un nostro telespettatore Ci ha inviato Queste foto Che ritraggono Lo stato In cui versi Il sottopasso Posizionato Tra via Cavallotti E viale della Vittoria Oltre al degrado Provocato da foglie Cartacce Ed immondizia Il sottopasso Presenta uno stato Di maloramento Aggravato dalla rottura Della tubazione Dell'acqua Non ancora sistemata E che rende Il passaggio Ancora più complicato E il vecchio Palace di Viale Dei Partigiani È sempre uno Dei temi più Discussi in città Con la sua inaugurazione Ormai da mesi Fissata e confermata Per il 29 di febbraio Ci sono ancora Alcuni punti interrogativi Su cui il gruppo Di centrodestra Vuole fare Una maggiore chiarezza Costi reali Dell'opera E tempistiche Per effettuare Il collaudo Dell'ex hangar Sono solo alcuni Dei temi Che ha affrontato In questa intervista La consigliera comunale Giulia Marchionni Sentiamo Tutti tifiamo Per l'inaugurazione Del 29 di febbraio E tutti Saremo ben felici Di poterne Usufruire Nell'anno Della capitale Costi Perché nella l'amministrazione comunale le ha contestate integralmente, però agli atti c'è questa richiesta. Io credo che sia giusto per la città di Pesaro capire anche quali sono i risvolti economici, alla fine sono i soldi di tutti che hanno permesso, speriamo, consentiranno il 29 febbraio di inaugurare il palazzetto e di renderlo fruibile, però è importante capire quali sono stati negli anni anche gli aumenti, siamo partiti nel 2015 con un costo stimato intorno ai 3 milioni e mezzo, 4 milioni di euro, adesso i costi sono lievitati, cerchiamo di fare chiarezza. Il 15 gennaio verrà data risposta a questa interrogazione che era l'ultima non evasa nel 2023, quindi la prima del 2024, speriamo vengano date risposte certe anche per capire realmente i costi, perché capite che un palazzetto che sicuramente poteva contenere tante persone negli anni d'oro della Scavolini oggi è stato profondamente ridimensionato, si parla di non più di 1.400 persone ospitabili, capite bene che i costi che all'inizio si aggiravano intorno a 3 milioni e mezzo oggi sono abbondantemente lievitati e anche la mole di persone che potranno essere ospitate è stata profondamente ridotta. Uno stravolgimento anche rispetto poi alla viabilità e alla possibilità di accedere perché nuovi parcheggi non sono stati fatti, la zona sicuramente otterrà grande beneficio anche per ospitare qualche convegno, qualche evento, sicuramente non sarà facile per coloro che abitano nella zona riuscire a conciliare tutto quanto. Speriamo di avere risposte presto, speriamo che l'amministrazione comunale faccia chiarezza. Una videosfera per raccontare i segreti del mare ed entrare nel mondo della marineria. E' questo ciò che verrà installato a Fano, saranno racchiusi infatti in due vongole giganti dalle diametro rispettivamente di 12 e 6 metri e saranno in grado di ospitare tra le 25 e 30 persone. La doppia installazione sarà posizionata entro maggio in via Sauro davanti al Faro, a fianco delle ponte che unisce Lido e Sassonia. Si tratterà di un museo interativo e dinamico per immergersi nei valori nella cultura delle mare che contraddistingue la città della fortuna. Le due vongole giganti, come dichiarato dal sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore Etienne Lucarelli, saranno un concentrato di tecnologia interattiva grazie alla progettazione frutto di Open Lab con la collaborazione dell'Università La Sapienza di Roma, l'Università Politecnica di Ancona e dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale delle Ministero della Cultura. Il loro costo si aggira intorno ai 700 mila euro e le base te rientra negli oltre 2 milioni di euro spendibili per l'intero progetto della Fano Marinara. A fare da corollare la videosfera delle mare sono previsti poi dei colorati e geografici giochi di luce sull'acqua. Ed è una bella notizia per la zona mare di Fano, passiamo ora ad una decisamente più preoccupante. Nei giorni scorsi infatti sono stati diversi furti verificati presso la zona portuale della città della fortuna. Ad essere presi di mira sono stati i moto pescherecci che vengono ancorati nella banchina vecchia del bacino portuale fanese. Secondo il gruppo pesca Fano, gli episodi in questi ultimi mesi sarebbero stati 5 o 6 e tutti sempre con la stessa tecnica. Approfitando delle bughe delle notti, i ladri salgono a bordo dell'imbarcazione, forzano la cabina e una volta entrati arraffano tutto ciò che può essere poi rivenduto, dai telefonini ai computer o qualsiasi altro tipo di oggetto che alla fine possa essere monetizzato. Alcuni armatori fanesi che più di una volta sono stati bersagliati da queste tipologie di episodi hanno già provveduto a presentare la propria denuncia ai carabinieri. E si conclude questo fine settimana il programma degli eventi natalizi segui la sua luce di Gabicce Mare. Sabato 6 gennaio appuntamento con arriva la Befana, iniziativa organizzata dall'Avis di Gabicce Mare, dove una sempatica Befana aspetterà i bambini a Gabicce Monta a partire dalle ore 16 per regalare calze e dolcetti. Contemporaneamente nelle vie delle borgo di Gabicce Monta andrà in scena il presepe vivente organizzato dall'associazione il borgo di Grilli Parlanti, che si arricchirà con l'arrivo dei Re Magi. Domenica 7 gennaio, invece, dalle ore 15, presso il centro civico Creobicce, si svolgerà l'open day dello spazio gioco ludoteca, a cura della consulta dei giovani di Gabicce Mare insieme all'associazione GioGRA e con il sostegno dell'assessorato alle politiche giovanili. Un pomeriggio all'insegna del divertimento e dello star insieme con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Non solo a Gabicce, però, perché anche il presepe di Betlemme a Talacchio si prepara a vivere un altro giorno di festa nella giornata di domani 6 gennaio. Alla presenza delle parroco Donne Richard e delle sindaco Pammirucchielli, alle ore 15 il lecorteo con i Re Magi e i figuranti vestiti con i costumi d'epoca partirà da via Marconi, per poi essere accolti in chiesa dai fedeli per la benedizione delle famiglie. Il lecorteo, lungo tutto il percorso, sarà accompagnato dalle suona della zampogna di Duccio Marchi e a seguire ci sarà spazio anche per gustare le prelibatezze del territorio con calda roste, vin brule e cioccolata calda servita dalla proloco di Montecchio. E domenica 7 gennaio è tutto pronto per l'evento di inaugurazione della nuova scuola primaria di Tavoli in strada delle Piano. Per l'occasione interverranno le autorità cittadine, provinciali e regionali e sarà inoltre possibile visitare internamente i locali della scuola di nuova generazione. Il taglio delle nastre è in programma alle ore 15, lunedì 8 gennaio con la ripresa dell'anno scolastico la nuova scuola entrerà in funzione. Alla cerimonia saranno presenti anche le telecamere di Rossini TV che realizzeranno uno speciale televisivo che andrà in onda giovedì 11 gennaio alle ore 21 e 20. Vuoi creare contenuti di successo online? La ConfCommercio Marche Nord con Forma Conf organizza un corso per approfondire la conoscenza e l'utilizzo di strumenti social rivolto alle imprese. A partire dalle prossime mese partiranno due moduli di lezione. Il primo modulo, un corso base, si terrà tutti lunedì dall'8 febbraio alle 29 febbraio alle 14 alle 18. Il secondo modulo, un corso avanzato, si terrà tutti venerdì dalle 1 marzo alle 22 marzo alle 14 alle 18. Le iscrizioni scadranno il 31 gennaio 2024. Maggiori informazioni alle numero di telefono 0721 371195 all'interno 208. Anche il comune di Tavuglia ha il suo circolo Hauser. A Tavuglia l'attività di Hauser ha preso l'avvio circa sette anni fa grazie all'esperienza dei volontari delle Verde, un gruppo di cittadini che ha preso a cuore il decoro dei parchi e delle aree verdi presenti su tutto il territorio comunale. Grazie alla costruzione del circolo le progettualità Hauser a Tavuglia potranno compiere un ulteriore salto di qualità. Nelle corse dell'ultima riunione si è proceduta la nomina delle direttivo composto da rappresentanti di tutte le frazioni. A ricoprire il ruolo di presidente sarà Ottavio Bertuccioli, mentre Luciano Angelini è stato nominato vicepresidente. Il circolo è già al lavoro per pianificare alcune iniziative che prenderanno avvio nel 2024, tra gite, eventi e appuntamenti conviviali rivolti alle persone over 65. Tra le proposte alle vaglie è anche quella per la gestione di un piccolo bar nella frazione di Belvedere. E sarà una rassegna esplosiva quella di Playlist Pesaro, rassegna che da gennaio a maggio porta in città artisti noti ma anche figure innovative della scena musicale internazionale. Quattro le sedi scelte per i concerti tra la Chiesa dell'Annunziata, la Sala della Repubblica delle Teatro Rossini, il Teatro Rossini stesso e il Teatro Sperimentale. Il programma si apre il 13 gennaio. La musica, parte integrante di Pesaro Capitale della Cultura, Playlist tra l'altro taglia il traguardo della decima edizione, lo fa con tanti generi e per tante generazioni. Sì, è una concomitanza strategica quella di avere assieme la decima edizione di Playlist con l'avvio della Capitale della Cultura, l'abbiamo visto anche qualche sera fa con il grandioso successo del gospel al Teatro Rossini, anche questo è una tradizione degli ultimi anni e allo stesso modo Playlist che è la stagione musicale della stagione di Pesaro che è cresciuta tantissimo in questi anni nel tenere il passo tra rock, pop e musica d'autore, rock di ricerca e anche musica elettronica negli ultimi anni offre un cartellone, una proposta che va da artisti con una carriera ormai quarantennale come Eron, a ritorno dei La Cruz che presentano il proprio album dopo tanti anni proprio da Pesaro, quindi sarà un'occasione nazionale per conoscere nella Capitale italiana questo nuovo lavoro di questo gruppo che ha fatto la storia della musica rock a partire dagli anni 90 fino a artisti emergenti ma ormai già diciamo di una fama conclamata come Daniela Pes, vincitrice anche dei Premio Tenco Giovani e diverse altre proposte come la giornata dedicata a Elvis, insomma un corollare di appuntamenti musicali che diventeranno giorno per giorno anche il main event della Capitale Italiana della Cultura e che assieme ad altre stagioni più classiche come quella delle concerti, l'archesta Sifonica Rossini e della musica che sarà comunque grande protagonista, aiuta a caratterizzare alla grande un anno non solo indimenticabile ma che si permette di offrire tante opportunità anche uniche di ascolto musicale per svolgere pieno il ruolo di Capitale Italiana della Cultura. Si tratta di un cartellone che ha nella grande qualità delle proposte e soprattutto nella sperimentazione, nell'innovazione, nel rapporto in esausto con la tradizione e in un costante dialogo con i generi, i linguaggi e le varie culture, l'elemento essenziale che lo caratterizza. Questo avverrà sin dal primo appuntamento che è quello del 13 gennaio, una vera e propria novità, una giornata che abbiamo chiamato RUTS, Musica dalle Radici, perché accompagnerà lo spettatore alla scoperta di tre esperienze musicali che fanno della lingua e del rapporto in esausto con la tradizione della propria terra e con la propria cultura, il centro nevralgico e il punto di partenza del proprio lavoro. Una giornata che vedrà la partenza con la Macina, gruppo storico della oralità tradizionale marchigiana, del canto popolare che da sempre con grande cura e con grande attenzione porta avanti la tradizione, per arrivare a una serata veramente travolgente che vedrà oltre a Massimo Silverio, un giovane artista emergente che canta in lingua carnica, per la prima volta a Pesaro il talento del momento, diciamo le vincitrici del premio Tenco per l'opera prima che è Daniela Pesse, un evento molto atteso a cui invito tutti a partecipare. E con quest'ultimo servizio musicale dedicato all'inizio di playlist Pesaro termina qua il nostro telegiornale, prima però di lasciarvi alle previsione delle meteo e vi ricordo la prima serata di questa sera perché alle 21.20 potremo rivedere il tuffo di Capodanno che c'è stato la mattina del 1 gennaio a Pesaro. Tanti coraggiosi che hanno sfidato le fresche temperature, non freddissime in questo momento, siamo ancora diciamo in un inverno un po' atipico però questa sera potremo rivedere lo speciale che ha fatto il nostro Paolo Pagnini qualche giorno fa. E poi vi ricordo domani mattina il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa anche nella giornata dell'Epifania. Saremo in diretta alle ore 7.20, diretta anche su Facebook con repliche 8.20, 12.20, 14.20, 18.20. Domani mattina a condurre la rassegna stampa dell'Epifania la nostra direttrice Emanuela Rossi. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon weekend, quello appunto dell'Epifania, un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.